Tra poco la valutazione ottiene 8,2% l'aria rosso alla trave, rivediamo Daria Sarkosch che avevamo visto alle parallele, ovviamente sarà sempre presente la Nazionale Azzurra, le tre rappresentanti dell'Italia, le faremo vedere tutti gli esercizi. Daria Sarkosch, classe 85, nata il 17 agosto, quindi tra poco festeggerà il compleanno, nata Mestre, gareggia per la spessa di Mestre, allenata da Giorgio Citton. A livello internazionale ha già un buon curriculum, nel 2000 è stata prima la squadra al triangolare Juniores, alla sfida Juniores a Novara fra Italia e Spagna. Sempre nel 2000 Parigi, settima agli europei, sempre per quanto riguarda il campionato Juniores e poi vi abbiamo detto Italia, Germania, Francia, il triangolare alla C-Reale.